Ha scelto di creare questo osservatorio sullo sport e qual è il legame della banca con lo sport? L'osservatorio nasce dall'idea di dare uno sguardo al mondo dello sport, a quelli che sono gli effetti diretti e indiretti che il mondo dello sport, il credito e tutto lo sport system generano a livello nazionale. Crediamo come banca, che è vicina soprattutto alle piccole e medie imprese italiane, di voler contribuire allo sport anche nel nostro paese. Credo che questo osservatorio possa dare uno sguardo a quelle che sono le leve operative di questo settore. Ringrazio il CONI per averci ospitati qui oggi e per aver deciso di aggregare anche con i propri dati questa nostra ricerca. Nel 2019 lo sport ha generato ricavi per 95,9 miliardi. Ritiene che questo settore debba essere maggiormente valorizzato nel nostro paese? Direi sicuramente sì, sicuramente lo sport rappresenta un valore. L'Italia è un paese certamente che dal rinascimento in poi ha espresso grande valore a livello di progettualità, di capacità di innovarsi. Credo che in questo momento il paese abbia una grande opportunità per guardare avanti, guardare processi che possano anche contenere attività private nel pubblico e viceversa. Da questo punto di vista l'attività dello sport è importante non soltanto da praticare ma da guardare, da osservare e da vivere anche nel mondo del lavoro. Cosa ha evidenziato il nostro studio? Il nostro studio ha evidenziato soprattutto i dati aggregati che riguardano un po' il mondo delle aziende che vivono nel mondo dello sport e quello che poi è l'impatto pubblico di questa disciplina. Sono dati certamente che già tutti conosciamo, noi abbiamo cercato di riunirli in un'ottica forse un po' più economico o bancaria. Noi lavoriamo con aziende che fanno parte dello sport system, aziende che utilizzano credito e diamo credito sportivo. Da questo punto di vista abbiamo cercato di misurare gli impatti economici con uno sguardo diverso. Grazie per la visione!